Se devo dire un minimo alibi, ma davvero minimo, cosa darà la Juve, il pensiero che dopo aver fatto 6 punti nelle prime due oggi fosse molto meno importante di Inter-Juve domenica Potrebbe essere, non credo, però potrebbe magari essere un pensiero che porta molto a lasciar fuori Cambiaso Sì, oltre agli infortuni anche tra te un po' di turnover perché dicevi Cambiaso ma poi anche Gatti non giocava, i Locatelli C'è anche uno dei giocatori che oggi non sa faccia di capitano ed è uno dei casi della stagione della Juve, Danilo oggi è stato il peggiore in campo Non solo per l'episodio che non ha deciso la partita ma è come se l'avesse decisa perché quello io rimando in 10 Sono d'accordo Pastor E però è mancato proprio il giocatore che deve dimostrare, tornando al titolare, di essere arruolabile da motta nelle gare successive e invece no La lettura, scusa Giuseppe Di, Giuseppe Pastore, sulla priorità che potrebbe aver dato la Juventus al derby d'Italia di domenica Più un discorso magari che fa l'allenatore con le scelte di formazione che il giocatore quando va in campo In campo il giocatore no, al 100% Sulle scelte un po' di turnover può essere che su Cambiaso, su Gatti possa aver pesato Però al netto di questo io do grande merito allo Stoccarda Grande merito perché ha fatto veramente una partita quasi perfetta se non perfetta Su tutte e due le fai è stata anche qualitativa quando aveva la palla, ha sbagliato poco, la pressione era stata fatta bene Grazie mille Grazie mille